Vicepresidente Saccardi, a un anno dal suo insediamento, quali sono state le scelte politiche che hanno contraddistinto questo periodo? Ma intanto naturalmente nel primo periodo ci siamo concentrati molto sul tema dei ristori per il periodo della pandemia e quindi abbiamo investito 14,5 milioni di euro per dare un ristoro agli agriturismi che in un mondo come quello dell'agricoltura, che tendenzialmente ha lavorato, sono state però le strutture che comunque sono state ferme e che quindi avevano bisogno di un ristoro, così come abbiamo dato una mano al settore lattiero caseario e anche al settore del florovivaismo. Dall'altro lato, cioè sotto il profilo invece della programmazione, in questo primo anno ci siamo concentrati molto sulla programmazione dei fondi europei del FEASR per il periodo transitorio 21-22. Infatti in attesa dell'approvazione della nuova PAC che partirà nel 2023, il PSR si è concentrato sul prolungamento del periodo precedente e sulla programmazione transitoria degli anni 21-22. Vuol dire mettere a disposizione del mondo dell'agroalimentare e comunque del mondo agricolo 342 milioni di euro da spendere e da impegnare entro il 2023 e da spendere entro il 2025. Quindi comunque risorse importanti su questi due anni che abbiamo programmato su varie misure. Intanto abbiamo fatto partire anche anticipatamente rispetto all'autorizzazione della nuova programmazione PSR e abbiamo fatto partire le misure agroclimatico-ambientali, abbiamo fatto un investimento importante quest'anno sulle misure del biologico. Il bando del biologico ha avuto 72 milioni di richieste, quindi tantissime aziende sia sull'introduzione che sul mantenimento del biologico hanno fatto domanda, abbiamo ritenuto che in un periodo nel quale l'agricoltura è attenzionata per l'impatto che può avere sul mondo ambientale abbiamo ritenuto che l'investimento sull'agricoltura biologica fosse un investimento nella direzione giusta nella direzione che anche la comunità europea ci indica. E quindi abbiamo investito 72 milioni di euro per dare risposta a tutte le aziende che avevano fatto domanda su questo bando. Nello stesso tempo abbiamo anche investito più di 20 milioni di euro sulle misure agroclimatico-ambientali. Abbiamo previsto investimenti importanti sul pacchetto giovani perché anche questo, anche il tema del ricambio generazionale è un tema che in questi anni il mondo agricolo dovrà affrontare. Nello stesso tempo abbiamo provato anche a dare una mano alle amministrazioni locali attraverso il programma leader. Abbiamo stanziato risorse, stiamo già predisponendo i bandi sulla tutela dei boschi, sulla prevenzione degli incendi che è un altro dei temi di grande attenzione, da attenzionare in modo molto forte. L'abbiamo visto per quello che è accaduto quest'estate per l'impatto degli incendi. La regione toscana è una delle regioni forse più avanzate su questo fronte, non solo per la capacità di fronteggiare gli incendi ma per il piano di prevenzione che ha messo in piedi, che credo sia sicuramente molto avanzato nel panorama nazionale. Quindi questi sono un po' gli obiettivi che abbiamo affrontato in questo primo anno di legislatura e che dovremo sviluppare nei prossimi mesi e nelle prossime settimane.